Sembrerebbe un problema di secondo piano perché l'Italia intera, in molti settori economici, è afflitta da questo problema. Ma la crisi nel settore agricolo in realtà è una crisi che trae origine da molti più anni, che ha delle componenti strutturali ma anche congiunturali e che rispetto agli altri settori non vede un'azione incisiva da parte del Governo per porre freno a questa difficile situazione. L'iniziativa di questa sera cerca di mettere a fuoco quelli che sono gli elementi più importanti. Noi abbiamo già chiesto la moratoria al Governo, c'è già un disegno di legge da parte di alcune forze politiche che hanno presentato in Parlamento. Quindi cercheremo di sensibilizzare tutte le altre forze politiche affinché l'agricoltura torni ad essere elemento di traino per l'intera economia nazionale. Un settore che oggi sconta questo deficit di politiche agricole e che invece assolga un ruolo molto importante per la società è che va oltre gli aspetti legati alla produzione di cibo, per investire l'ambiente, per investire la salute dei nostri cittadini. E quindi un'attenzione particolare per un settore così strategico e importante è un po' la funzione della nostra federazione.